A Raiano aprirà una sede di staccata del centro di senologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. L'inaugurazione giovedì 6 marzo alle 10.30 nei locali dell'ambulatorio medico comunale nel piazzale Santonofrio. E il risultato dell'impegno profuso dal comitato spontaneo donne di Raiano e dal comune che avevano lanciato la proposta nel settembre scorso in occasione della quarta edizione della passeggiata contro il tumore al seno. Quando abbiamo pensato di far sorgere proprio a Raiano una sede di staccata del centro di senologia ci sembrava si trattasse di un ambizioso e grandioso progetto per la nostra realtà territoriale. Ora hanno premiato la comunione di intenti, il lavoro in sinergia, la determinazione, l'impegno di tutti e la perseveranza. Il sogno è diventato realtà. Lo affermano Anna Maria Zitella del comitato spontaneo donne ed il sindaco Marco Moca che ritengono l'insediamento dell'ambulatorio di senologia utile alle numerose donne del circondario di usufruire di un ottimo servizio di prevenzione e diagnosi. Soddisfacendo le necessità proseguono di una realtà territoriale che ci ha creduto e che ha generosamente contribuito per fare in modo che ciò accadesse davvero. L'idea nacque dall'esigenza di evitare gli spostamenti all'Aquila che in molti casi hanno comportato anche attese di un anno per le visite. L'obiettivo è quello di facilitare la prevenzione e la sensibilizzazione del tumore al seno attraverso una sede stabile che sarà servizio delle donne della Valle Peligna. Per sostenere l'iniziativa fu promossa una raccolta firme che ricevette il consenso del direttore generale della ASL Giancarlo Silveri. L'ambulatorio di Raiano sarà diretto dallo staff medico del reparto di senologia del San Salvatore e dal primario Alberto Bafile. All'inaugurazione di giovedì prossimo sono previsti gli interventi del presidente della regione Gianni Chiodi e del manager Silveri. Grazie. 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 Grazie.